Gaston Brogman si avvicina a questo appuntamento, intanto col Verona non è mai una gara come tutte le altre, la rivalità c'è con la squadra scarigera? Sì, sicuramente sarà una sfida diversa, so che è sentita nella città, so che è sentita anche per noi, perché non è un derby ma si sente come derby, si sente già nell'aria, oggi i tifosi sono venuti a sostenerci all'allenamento, quindi è una cosa molto bella che sicuramente ci dà più carica per affrontare la partita. Ci sono dei reduci della partita col Trapani, tu non hai fatto parte di quel gruppo, c'eri però l'anno prima quando la doppia finale non è stata vinta, non che sia stata persa, perché poi la differenza l'ha fatta la classifica. Cosa conta in quei momenti, in queste partite, in questi play-off? Sicuramente ci sono tanti nella squadra che abbiamo giocato play-off e sappiamo cosa significa giocare, è l'importante che è ogni episodio, quindi magari non dare una palla persa, quello sarebbe importante, soprattutto la copatezza, perché diciamo che la finale col Bologna, quella che ho giocato, non meritevamo mai di perdere quella finale, alla fine abbiamo pareggiato, però lo scontro diretto comunque conta e in questi casi l'abbiamo a favore, quindi può essere anche un'arma in più quella. Immagino vi aspettiate il grande coinvolgimento del pubblico in questi momenti, poi Pescara si ricompatta, lo ha già fatto vedere. Sì, sì, quello si percepisce nell'ambiente, anche nella città, magari vai a prendere un caffè in centro e già la gente si sente carica, quello lo trasmette la squadra anche, quindi dobbiamo essere anche intelligenti a non soppressare la riga di quello e fare delle cavolate diciamo in campo. È una cosa che ci tengo dopo quella finale lì a Bologna, di portare un'altra volta a Pescara in Serie A. Adesso non ci vuole parlare del futuro perché non c'è senso, ovviamente amo questa città, dopo questi anni il tifoso dell'Uruguay numero uno sono io, quindi sono contento di stare qua.